Come tutte è importante perché ci vede una squadra che ha due punti da noi, quindi è una partita importante per il discorso del playoff. Partiamo subito dalle condizioni della squadra che oggettivamente non sono proprio ottimali, nel senso che manca Fellin, abbiamo un problema muscolare per Eric Williams e abbiamo avuto due giocatori con influenza che sono Damien Odis e Marco Lagana. Però nonostante questo ci siamo allenati bene, con dottore, con attenzione e sappiamo che dobbiamo fare una partita molto intensa contro una formazione a mio avviso ben allenata e che adesso ha trovato in Reddick anche un giocatore che gli ha dato una dimensione interna che prima non aveva. Noi dobbiamo stringere un po' i denti, di avere una forte resilienza, una forte difficoltà, una fatica a un momento di qualche acciacco, però al nostro tempo è un momento moralmente abbastanza buono per la qualificazione di coppa e per le vittorie che abbiamo avuto in campionato. Sappiamo che dobbiamo stringere i denti, fare molta fatica e fare una partita molto attenta difensivamente parlando e spero proprio che i giocatori della Rosa possano darmi tanto nella speranza che Enrico possa essere una partita. Feldin non lo sarà. Lagana e Olis invece mi sembrano, insomma, non abbiano poi grossi problemi nel poter giocare. Cosa tutto mi piace? Problema muscolare? Problema muscolare, lasciamo così, insomma. Non specifichiamo, poi dopo i dottori mi cazzano perché devo mettere fuori tutta una serie di comunicati oggettivi. Ieri è stato fermo, oggi è approvato, non ce l'ha fatta, quindi è due giorni che non si è un po' lungo.